Mesi e mesi di lavoro, di progettazione, di riprese, di post-produzione. Ora il film San Tommaso d'Aquino, il Dotto, già distribuito in DVD, arriva in televisione. Sarà trasmesso in prima visione mercoledì sera alle 21.10 su Teleuniverso. Un film ambientato nei luoghi in cui il dottore Angelico ha trascorso la sua vita. La maggior parte delle scene sono state girate ad Aquino e Fossanova, ma non sono mancate le trasferte di tutto il cast in altre zone, come Viterbo e Napoli per esempio. La pellicola in questo modo è diventata da una parte lo strumento con il quale far conoscere la vita di un santo tanto amato, dall'altra l'occasione per valorizzare le città che lui ha conosciuto e che adesso ancora mantengono in alcuni scorci le atmosfere medievali. Il film è nato da un'idea dell'associazione araldica contato da Aquino ed è stato realizzato da Teleuniverso. La regia televisiva è stata affidata a Roberto Vettese e Franz Petroffalese, mentre la voce narrante è quella di Marco Stanzione. Circa 100 partecipanti, trattori e figuranti, con i costumi curati nel dettaglio grazie alla maestria della costumista Clementina Evangelista. Lo sceneggiatore e regista del film è Pierpaolo Forlini. Appuntamento quindi da non perdere in Prima Visione mercoledì sera alle 21.10 su Teleuniverso. Entro il 2015 invece la produzione sbarcherà sul circuito delle tv locali di tutta Italia.